Io da sempre porto avanti la medicina personalizzata e la medicina personalizzata prevede sia un approccio basato sulla genetica che un approccio che tiene in considerazione l'epigenetica, cioè fondamentalmente la medicina vera è un punto di incontro tra la genetica e l'epigenetica. La genetica sono i cromosomi che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori, che ci predispongono quindi a determinate malattie, ma anche a sviluppare determinate capacità, eccetera. Viceversa l'epigenetica, in cui il termine epi deriva dal greco, vuol dire sopra la genetica, sono tutti quei comportamenti che noi otteniamo tramite quello che mangiamo, l'attività fisica che facciamo, gli stessi nostri pensieri, che sono in grado di intervenire sull'espressione dei geni. Per fare un esempio, la genetica è un po' come l'impianto elettrico di un appartamento e invece l'epigenetica sono gli interruttori che noi possiamo accendere o spegnere. Ovviamente mi avvalgo di determinati test specifici per poter approcciare questo tipo di medicina verso i miei pazienti. E per quanto riguarda il test epigenetico mi avvalgo soprattutto del test S-Drive, che utilizza un device, questo, che praticamente permette di valutare tutta una serie di fattori ambientali, quindi anche eventualmente inquinamento, sostanze tossiche, presenza di interferenze di tipo elettromagnetico, ma anche deficit determinati sistemi come quello cardiovascolare, immunitario, intestinale, ormonale, sintesi proteica, sistema dello stress, eccetera, e anche identificando determinate carenze a carico di vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, antiossidanti, eventuale presenza anche di microbi. Quindi è veramente un test molto completo che permette di avere una visione del momento della persona e poter intervenire appunto in maniera personalizzata. Il grande vantaggio di questo test è che si ha, diciamo, una risposta immediata nel giro di 15 minuti anche perché queste informazioni che vengono captate praticamente esaminando e testando il bulbo di un capello, la cui frequenza elettromagnetica secondo i concetti di fisica quantistica viene trasmessa in un server in Germania, che lo compara appunto con tutta una serie di altre frequenze ed è in grado di dare appunto un report dettagliato sulla persona. Utilizzando questo report, io che sono per esempio un grande sostenitore dell'utilizzo degli integratori per ottimizzare, diciamo, la biochimica del nostro organismo, anche perché oggi veramente molto facilmente siamo in carenza di questi micronutrienti che ho citato prima, in questa maniera io sono proprio molto più in grado di dare quegli integratori che realmente servono a quella persona, un intervento quindi personalizzato. Questo è uno strumento che ha dato un upgrade alla mia capacità e prestazione di tipo professionale e di fatti invito tutti gli operatori del settore a prendere in considerazione questo tipo di test perché permette veramente di personalizzare il più possibile l'intervento. E in merito a questo invito anche a partecipare al corso teorico-pratico S-Drive che si terrà a Bologna il 10 settembre. In quell'occasione io otterrò una lezione appunto sulle carenze in aminoacidi, vitamine e minerali in medicina funzionale e quindi come intervenire per risolvere questo tipo di problematiche.